Buongiorno, oggi cuciniamo fregola in brodo con cagliato, ricetta tipica della Sabegna. Per questa ricetta utilizzeremo il brodo granulare di pesce bauer. Inseriamo il nostro granulare all'interno dell'acqua e portiamola a bollore. Per realizzare questa ricetta utilizzeremo dell'ardo pestato, della cipolla, aglio, prezzemolo, fregola sarda, polpa di pomodoro, pecorino sardo e foglie di basilico. Iniziamo versando l'olio all'interno della pentola. Inseriamo l'olio extravergine, il lardo, La cipolla L'aglio Il prezzemolo La fregola sarda Lasciamo tostare leggermente E a questo punto aggiungiamo il brodo di pesce Lasciamo rapprendere la fregola E proseguiamo inserendo la polpa di pomodoro Lasciamo cuocere per 10-15 minuti Se occorre possiamo aggiungere un poco di brodo E il piatto è pronto Ultimata la cottura versiamo la minestra Spolveriamo con del pecorino sardo Delle foglie di basilico Ed il piatto è pronto Come tocco finale aggiungiamo del maialino Spolveriamo con del pecorino Spolveriamo con del pecorino